Allo, apparazzo 8 voti initante Gene Cleven per la banda radio. E' becata... ah, che bevonte si tiende. News, ci vi dà un'altra votosa internazionale, locale che si buronde. Ora tonda news, ci vi dà un'altra votosa internazionale, locale che si buronde. E' becata un'altra votosa internazionale, locale che si buronde. Cororo, calate trevar, ind, ab, c, c, c. Si vedeva come volta c'è le cina di trafico, c'è per musica. Musica, c'è loro, le bacine, le bacine, no, casetti, no, anche bubdica. Sports, che becinta è la cipolla. C'è la cipolla, c'è la bocca di WNW Sports. Tondo vecini, o le bacine dà un'altra votosa, si chiedi, sono davvero evidente, tomara morning alla radio. Oh, oh, boy. Hey, Mr. Nett, how are you? Mr. Ned is here, the coordinator of interrelation.